Grazie a tutti. Lo vengono a scoprire, quindi lo sto dicendo a te che sei il mio migliore amico, quindi per favore non interna l'altro. Sì, tranquillo, è una cosa perfettamente normale. Grazie. Mentre ci siete datevi pure un bacino. Questi finocchi. Facciamo il video. Come sta succedendo? Grazie a tutti. No, 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 no. Non mi interessa, tutti i miei presidenzi. No, no. Grazie. Ci vediamo. No, 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 grazie. Avanti. Buongiorno. 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 Siamo oggi in te. Ah, sì, prego. Cos'è successo esattamente? Il vostro figlio è stato aggredito dai compagni di scuola per riempie di sessuali. Dove si trovano così? Adesso è al sicuro, ma noi non possiamo tollerare al fatto che per questo i suoi accompagni lo aggrediscano. Infatti vanno un po' di scuola. Conti erano un po' di scuola per riempie di gioco? Circa 5 o 6. E ora dove andrei? E ora è al sicuro. È il vicepresidente. Possiamo andarlo a vedere? Sì, certo. Grazie. Ciao, cari. Ciao, ho visto il video tutto bene. Sì, adesso mi sento molto meglio, ora che questi bulli non ci sono più. Sei contento per te. Grazie. Ciao, ciao.